Ed eccoci arrivati nell'ultima sala dove c'è questa fantastica opera d'arte che apparentemente non sembrerebbe nulla, però in realtà è stata realizzata dal più grande artista dell'Ottocento, un certo Franz Elarus Guillermo. Sì, Guillermo è bene, ha delle origini italiane e rappresenta l'estro dell'artista rappresentato da questa matita che in realtà non è altro che la creatività del nostro artista. Beh, adesso le faccio una domanda. Noi abbiamo visto tantissime opere d'arte, c'è qualcosa che l'ha attirata particolarmente e che sarebbe interessato ad acquistare? No. No!